Ciao a tutti amici di YouTube, oggi ci troviamo su macOS per vedere come disabilitare l'utente ospite. Per chi non lo sapesse, la funzione d'accesso tramite utente ospite consente di avviare macOS liberamente, senza credenziali, potendo utilizzare il sistema operativo per le funzioni generiche che ha, naturalmente non saranno presenti i dati dell'utente amministratore. Questo consente di avere un profilo temporaneo durante l'utilizzo del sistema, ed appena effettuata disconnessione, arresto, riavvio, tutti i dati esercitati durante la sessione verranno eliminati. Se tuttavia questa funzione non la adoperiamo spesso, è possibile disabilitarla. Basta recarsi nella voce utenti e gruppi nell'app impostazioni, attivare la modifica inserendo la password di sistema e recarsi su utente ospite. Per rimuovere la spunta alla voce consente agli ospiti di eseguire il login su questo computer. Ecco fatto, nulla di complicato, ora comparirà la scritta non attivo sotto il profilo utente ospite. Per verificare, andate nelle impostazioni di login ed ecco che l'accesso può effettuarlo solo l'amministratore. Bene, per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.